Turno di metà settimana, deludente a più non posso, col fattore casalingo che va a farsi benedire a discapito di Chieti e Celano. Il Giulianova invece riporta un punto prezioso dalla terra di Calabria. Il KO più clamoroso è quello del Chieti di Paolucci che imbarazza nella prestazione, regala un tempo completo agli avversari, dando via libera alla versa normanna che sbanca l'Angelini per 2-0, in gol grieco alla mezz'ora della prima frazione con replica nella ripresa di Pisani. Risultato in fin dei conti giustissimo, il Chieti comunque nonostante l'amarezza rimane al quarto posto in piena zona playoff con le inseguitrici che non ne hanno approfittato, il tecnico Paolucci. Primo tempo un po' particolare da parte nostra, non siamo entrati in campo praticamente, al di là dei meriti della versa che ha fatto un ottimo partito, un ottimo primo tempo, però poi si è visto il secondo tempo magari con un po' di cattiveria in più, eravamo più corti, più aggressivi, abbiamo creato tantissime situazioni da gol, però abbiamo preso quel secondo gol che è un po' sicuramente 10 contro 11 non possiamo prendere un gol così, ci ha un po' tagliato le gambe, anche se poi abbiamo creato diverse situazioni da gol e oggi è una giornata negativa perché si è visto in quelle situazioni che la palla non voleva entrare. A Celano passa la capolista Perugia per 4-0, ma i marsicani per tutto il primo tempo tengono testa e più quotati avversari che riescono a sbloccare con Russo al 36esimo. Due le espulsioni in casa marsicana che non hanno aiutato e gli Umbri nella ripresa prendono il largo con Benedetti e la doppietta di Balestrieri. Tempi sempre più difficili per i celanesi, sempre ultimi in fondo alla classifica. Zero gol e poche emozioni infine per il Giulianova che impone lo 0-0 a Vibo e compie un passo in avanti per la quota salvezza, mantenendo a distanza proprio i calabresi. Peccato per qualche ghiotta occasione giallorossa che avrebbe potuto consegnare agli uomini di Foti un colpaccio clamoroso. Credo che oggi venire a fronte a Vibonese, dove c'era il cambio di allenatore, dove non aspettavo altro che questa partita per rilanciarsi, venire qua da parte dei miei ragazzi che fanno una gara di sacrificio, abbiamo diversi infortunati, stiamo in un momento dove ho dovuto riprendere un pochino anche l'aspetto morale di questa squadra perché avevamo fatto 5-6 sconfitte consecutive. Credo che il punto di oggi ci faccia molto morale. Turno di riposo per l'Aquila.